cari amici benvenuti a questo nuovo appuntamento di luminar neo oggi tocchiamo la parte del ritratto apriremo solo ritratto bocche perché poi vedremo più avanti l'utilizzo della pelle del corpo del viso quindi questo è un settore carino quello che a me personalmente sono onesto piace meno di tutte le situazioni ci sono sull'uminar neo è proprio questo di oggi ovviamente non ho detto che non funziona bene che non è utile non piace a me non particolarmente almeno allora a parte luce modificata che secondo me è fantastica e i nuovi aggiornamenti che faranno delle cose strabilianti oggi apriamo con estrema facilità due foto base e vi faccio vedere col solo cursore di valore come già la foto cambia e poi però entriamo in due immagini leggermente quindi non nessuna preoccupazione perché inizia adesso leggermente più complesse cioè il riconoscimento del soggetto della foto noi naturalmente con il pennello possiamo naturalmente cambiare ogni cosa allora prima foto foto fatta qualche anno fa non ricordo neanche con quale oggetto due figure umane molto piccole rispetto al fotogramma ma noi vedremo qui con estrema facilità come possiamo mettere mano alle leggerissimi errori ma anche lo vedrete in grandendo normali dell'intelligenza artificiale allora vi lascio alle immagini e ci sentiamo dopo allora qui siamo in una foto dove diciamo che fu scelta all'inquadratura volutamente per gli schizzi d'acqua volutamente quasi in pan focus facciamo una prova e come vedete aprendo ritratto bokeh tutto è spento quindi il software attende che noi da valore partiamo e diamo un primo approccio così lui capisce quello che vogliamo fare come vedete adesso si è acceso tutto e come vedete ad occhio abbiamo visto che è venuto un grado di sfocatura con qualche piccolo difetto come vedete adesso io zoom vi faccio vedere che giustamente sia i capelli della signora bianchi su fondo quasi bianco e il cappello del signore con fondo nel come vedete dietro c'è una parte nera non ha ben capito io con focus e creandomi un pennello come vedete ci passo sopra naturalmente vi ricordo che nel mio pc con l'intelligenza artificiale fatica un po quindi vedete il ritardo l'appiglio che fa ma il risultato come vedete è molto ben fatto e con estrema facilità io vado a fare un dettaglio che poi mi ritrovo in maniera positiva naturalmente dopo sceglierò una volta che il software ha riconosciuto le due figure umane che ha già scontornato bene bene io solo perfezionato torno indietro al valore e come vedete per quanto devo essere onesto a me questo grado di sfocature non piacciono perché sono un po irreali devo ammettere che l'effetto con poca sfocatura funziona molto bene io naturalmente essendo fotografo di professione cerco di scattare ogni foto appropriatamente con una lunghezza focale lunghezza focale che mi permetta di in fase di scatto subito di realizzare bene però immaginate quanta clientela quante idee si cambiano negli anni quindi uno vuole creare un effetto così e può farlo con estrema facilità io poi mi ottimizzo per mia scelta personale il valore quindi della sfocatura poco a poco ma il risultato è ottimo seconda foto non volevo chiedere permessi a nessuno per questo tutorial che onestamente ho progettato di notte quindi per non chiedere niente a nessuno ho messo me stesso oggi abbiate pazienza vi tocca questa faccia brutta ma non è totalmente un caso è anche il fatto che io avendo barba bianca e capelli bianchi sono uno complicato da scontornare e quindi non chiedo permesso a nessuno ed in più in questa seconda fase vedrete quanto il fatto di avere i capelli bianchi sia più difficile di tutti voi che non li avete allora andiamo sulla seconda foto molto veloce molto facile di me che sto sul fondo di ponte vecchio a firenze ci vediamo dopo allora come vedete qui sono io così non ho dovuto chiedere permessi a nessuno mi auto riprendo e mi auto produco siamo già nella situazione ritratto utilizzo questa foto che come al solito vedete appare prima solo valore e poi si accende tutto perché questa parte dei capelli bianchi su un cielo chiaro non è facile da trovare l'unico vecchio che conosco sono io e quindi mi sono fatto una foto l'anno scorso a firenze e provo su questa la sfocatura allora apparentemente a uno sguardo distratto la sfocatura è perfetta poi parleremo un giorno se vale la pena sfogare il ponte e lasciare a fuoco a me ma questa è una battuta come vedete ingrandendo la intelligenza artificiale ha fatto il possibile e devo riconoscere che è veramente molto brava ci sono dei dettagli che ovviamente c'è una piccola parte di palazzi che sono rimasti diciamo tra virgolette attaccati alla mia nuca proprio perché lo stacco dei capelli bianchi su un cielo così bianco non è facile noi però possiamo crearci come stiamo vedendo un mettendo su focus quindi che cancello aggiungo o su sfoca che tolgo quindi vedete il simbolo meno vado a passare lentamente intorno ai bordi neanche con grande precisione l'intelligenza artificiale poi riconosce da sola che quella parte non fa parte di quello che vogliamo vedete io arrivo sempre un po ritardo guardate adesso sicuramente svanirà il pezzetto di palazzo eccolo vado a levarmi un altro pezzetto di palazzo da sotto all'orecchio in effetti già la rifinitura anche se grossolana fatta per questo tutorial veloce già è più chiara quindi una volta che io ho aiutato a poco poco il software con estrema facilità decido il grado di sfocatura aumentando diminuendo lo sfocato con estrema facilità e in effetti la foto a parte come dicevo prima il soggetto la scelta di sfocare firenze e lasciare lì più me la scelta personale ai fini dimostrativi ma in effetti anche con un piccolissimo aiuto è facilissimo l'utilizzo di questa sfocatura come era prima e come adesso terza fotografia entriamo un attimo in una situazione più complessa di pochissimo naturalmente allora vi presento i miei amici claudia e giordano gli ho fatto una foto che fu consegnata un po così retro che sembra trovata in un cassetto pieno di muffa in cantina e l'intelligenza artificiale qui ha una reazione molto diversa forse più naturale e adatta a quello che vede qui andiamo a lavorare d'impatto su una scelta personale cioè ci sono loro due due figure umane e la selezione è globale noi andiamo con facilità a togliere quello che vogliamo sfocare e di conseguenza utilizzeremo questa seconda parte sotto al pannello di ritratto buche che è sfondo che è interessante da vedere allora questa è la foto diciamo tra virgolette bonus una foto più complessa all'apparenza non sembra questa è una lavorazione che ho fatto io nel matrimonio di questi due cari amici e perché è un bonus perché vi voglio far vedere una parte che fino adesso non avete visto riaprendo ritratto buchen naturalmente l'intelligenza artificiale ha un'idea molto chiara come vedete qui è tutto spento aspettiamo e apriamo valore come potete notare ho aperto un pannello successivo sfondo e questo farà la grande differenza di questo tutorial aprire la seconda parte di sfondo ci aiuterà ecco come vedete in questo momento l'intelligenza artificiale ha fatto la cosa più giusta paradossalmente ha selezionato le due figure umane quindi io in questo momento tutto il grado di sfocatura mi va sullo sfondo ma andando su sfoca e come vedete col meno io cancello lui caro amico giordano io in questo momento il valore aggiunto dello sfondo posso scegliere il grado di sfumatura dello sfondo e il grado di sfocatura di giordano come vedete la foto è totalmente cambiata e secondo me un utilizzo così è assolutamente molto molto preciso come vedete aumentando la correzione di profondità posso recuperare il suo viso oppure se spingo verso sinistra vedete lo mando sempre più fuori fuoco ecco questo è un modo avanzato e il risultato è davvero notevole quarta ed ultima foto un po come la precedente sempre utilizzando anche il pannello di sfondo sempre firenze sempre io sempre qua macchinetta al collo diversa da quell'altra ma insomma al di là delle battute l'intelligenza artificiale vede in questa foto che adesso viene accorgete da soli un'altra figura umana anche lì io intervengo facilmente togliendola e proseguo attraverso anche il cartello di sfondo la gestione del fuoricoco spero vi sia tutto piaciuto ci vediamo sicuramente la prossima settimana ciao a tutti grazie oh qui siamo in uno dei posti che io preferisco in assoluto siamo sempre a firenze sono sempre io apro con un pizzico di migliora con sul fondo del beato angelico che è nel convento di san marco questa è un'opera che io adoro da quando sono bambino l'annunciazione allora apriamo ritratto boche e come state per vedere io naturalmente è tutto chiuso partiamo da valore e aspettando qualche attimo sembra che non accada nulla questo lì per lì non vi deve mettere in pressione c'è sicuramente un motivo allora il motivo è assolutamente che se voi passate sopra i soggetti capirete che l'intelligenza artificiale ha capito che c'è un altro elemento umano per lei ed è più che giusto allora riusciamo noi a intanto facciamo una cosa diminuiamo il pennello mettiamo su sfoca e io vado per scelta anche un po malinconica diciamo cancello la mascheratura automatica dell'intelligenza artificiale sull'arcangelo gabriele ricordo per chi non lo sa questo affresco è uno dei primi più belli del 1440 di beato angelico che con una prospettiva molto interessante anche per i fotografi da approfondire ma vado a togliere questo piccolo il fastidioso pezzettino di mascheratura e finalmente adesso l'intelligenza artificiale sa che sono solo io quello che vuole rimanere a fuoco quindi posso aumentare i valori del grado di sfogatura ma soprattutto vado ad affinare il tiro aprendola la parte dedicata allo sfondo vedete c'è la luminosità posso scurire solo il fondo posso dargli una tonalità più calda ma soprattutto posso controllare il grado di profondità questa è una chicca che di primo acchitto chi inizia a usare luminar neo non nota ma io ve la vorrei far presente come bonus che permette di fare delle grandi cose quindi dei grandi perfezionamenti su qualunque foto ovviamente questo sistema il bokeh come ripeto già forse l'ho detto non è così davvero simile la parola giusta legato alle ottiche fotografiche ma voi immaginate di poter con estrema facilità isolare un soggetto in una foto se invece la foto che avete scattato alla cellulare o con un grand'angolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti